La scuola si sta allenando dal 17 di agosto, quali sono le sue impressioni fino a questo momento? Le impressioni sono positive, diciamo che riconfermando gran parte del blocco della scorsa stagione e chiaramente partiamo più avvantaggiati per quello che è il tipo di lavoro, per quello che è la mentalità e chi è arrivato ho l'impressione che non abbia difficoltà né da un punto di vista fisico né da un punto di vista mentale come dicevo prima ad allinearsi al gruppo della scorsa stagione, per cui le impressioni sono sicuramente positive. Si sta lavorando in questi giorni a Vipiteno, che cosa si sta facendo in particolare? Stiamo proseguendo nel nostro lavoro, purtroppo al momento non abbiamo ancora fatto amichevoli ne faremo una venerdì, abbiamo lavorato e abbiamo giocato solamente tra di noi è l'unica cosa che ci manca un po' alla partita anche per staccare dagli allenamenti per il resto è tutto bene, stiamo riprendendo un po' le situazioni, i concetti che avevamo già sviluppato la scorsa stagione provando qualcosa di nuovo e facendo in modo che i nuovi arrivati entrino nei nostri meccanismi di gioco. Com'è stata la ripresa soprattutto dal punto di vista mentale? Avevano tutti voglia di riprendere, qualcuno aveva giocato solamente fino a marzo ed era fermo da 5-6 mesi quindi non vedeva l'ora di iniziare a giocare noi, anche noi, un gruppo che sta bene assieme, sia noi dello staff, sia i ragazzi tra di loro quindi avevamo voglia di riprendere e di iniziare la stagione ci auguriamo che possa proseguire senza intoppi e magari con un po' più di obblighi in meno o di problemi in meno adesso la situazione sembra abbastanza normalizzata però speriamo che la stagione ci riservi qualche buona sorpresa non qualche sorpresa negativa grazie grazie